Ciao ragazze e benvenute nel mio canale youtube Per chi non mi conosce, sono Karen e due mesi fa ho aperto un blog che si chiama appunto Karen Chiccherie nel quale mi piace parlare delle mie passioni quindi dei viaggi, libri, beauty, consigli di acquisti, shopping e tanto altro e finalmente mi sono decisa ad aprire ad aprire un canale youtube nel quale appunto mi piacerebbe approfondire e arricchire gli argomenti che ho già tratto all'interno del blog come molti di voi sanno, comunque per chi mi segue su instagram ho deciso di festeggiare l'apertura del canale youtube con un giveaway, un concorso e in premio ci saranno loro le mitiche candele della Yankee Candle per chi appunto mi segue, a molte ragazze so che già mi seguono su instagram e sapete che io ho una vera e propria passione per queste candele e qualche mese fa ho anche dedicato un post proprio sulle Yankee nel mio blog, quindi vi lascio cadono le informazioni qui nell'info box c'è mia madre che sta arrivando allora per voi ho scelto queste due candele la prima è questa qui, Angel's Wings e la seconda è questa qui, Cielo Turchese traduco il nome perché è in francese ed è impronunciabile per me allora, come fare per partecipare al giveaway? allora, anzitutto vi dirò partirà nel momento in cui riesco a caricare il video su youtube e finirà giorno 28 di febbraio che è sabato quindi avete parecchio tempo per potervi iscrivere appunto e partecipare al giveaway le regole per partecipare sono semplici ossia iscrivervi al canale youtube e lasciare un commento qui sotto vi assegnerò un numero e poi a termine del giveaway sorteggerò appunto le due vincitrici sicuramente metterò, posterò una foto anche su instagram in modo appunto da far sapere le ragazze che già mi seguono l'inizio dei giveaway scusate e che dire, io spero che il mio canale possa piacervi spero di non annoiarvi mi scuso per l'emozione perché essendo la prima volta è veramente difficile star davanti a una videocamera e girare un video e vi mando un bacio a presto come si chiama? madonna mi sta venendo ah non lo so intervista doppia quando fai vedere i film il dietro alle quinte ah il backstage per forza cioè hai fatto tutto tu quando non ho fatto niente ah